Sei corsi mascherati, tre spettacoli pirotecnici, due veglioni, due mostre artistiche straordinarie e un'infinità di persone attese per un intero mese di festeggiamenti. Sono i numeri del Carnevale di Viareggio 2020, ormai nastri di partenza, con il primo corso di sabato 1 febbraio preceduto dalla cerimonia di apertura, che Noi TV trasmetterà dalle ore 17. La Fondazione ha svelato quasi tutte le carte per giocarsi al meglio questa 147esima edizione. Tra i tasselli che ancora mancavano, nel mosaico di febbraio, c'era quello dei premi. Il burlamacco d'oro sarà segnato a Sergio Staino, celeberrimo vignettista già legato al Carnevale, mentre Undina d'oro sarà Amanda Sandrelli, figlia della Viareggina Stefania, premiata nel 1999. C'è ancora qualche piccola sorpresa, qualcosa di non raccontato. Quello che vediamo è che il Carnevale sempre più attrae grandi personaggi che spontaneamente hanno voglia di venire a Viareggio e fare un omaggio al Carnevale. Questo è buon segno. Sul fronte sponsor, confermato l'impegno storico di Esselunga, è raddoppiato quello di Ferrero, che allestirà anche un'area per bambini e nonni. Tra le novità, la prima volta di una speaker in lingua inglese, che affiancherà la voce di Daniele Maffei per annunciare e descrivere le costruzioni in gara. Non c'è nessuna canzone ufficiale, ha esordito la presidente Marialina Marcucci in conferenza stampa, chiudendo le polemiche con il Festival di Burlamacco, il cui vincitore canterà ad ogni inizio di sfilata. Ma in apertura, sabato pomeriggio, troverà spazio anche La Famiglia Digitale, il brano scritto da Tiziano Iannacci e Salvatore Di Martino e cantato da Enzo Iacchetti, commissionato dalla Fondazione. Il cerimoniale dell'Alza Bandiera, con la burlamacca che arriverà dal cielo, sarà preceduto dall'esibizione della fanfara della Marina Militare. Ma su sabato pesa l'incertezza meteo, nonostante l'ottimismo sulle previsioni, non mancherà un piano B in cittadella per rimediare a eventuali sgambetti del tempo. Per cui davvero un grande calendario, un grande calendario di avanti, un grande carnevale e viva Viareggio, venite al carnevale!